Il più cordiale buon lunedì e buon inizio settimana da Maria Beatrice Cresci, le audio news di Onda Web TV, le notizie in positivo. Appuntamento domani martedì 22 settembre alle 15 con dialoghi con la regia di Caserta. La direzione ha infatti avviato un percorso di confronto e condivisione con i suoi pubblici anche mediante la partecipazione attiva e trasparente alle iniziative del complesso vanvitiliano e dell'acquedutto carolino. Dunque domani dalle 15 alle 16 e 30 il direttore generale Tiziana Maffei, funzionari della regia, saranno a disposizione per discutere della costruzione compartecipata delle attività di valorizzazione dell'istituto museale. Dialoghi con la regia si terrà sulla piattaforma Zoom. Medicina a Caserta si riparte con lezioni miste in presenza ed online. Le lezioni a medicina di Caserta inizieranno il prossimo 5 ottobre per gli anni che vanno dal secondo al sesto e il 3 novembre per il primo anno. E a darne notizia il professor Marcellino Monda, presidente del corso di laurea di medicina e chirurgia dell'Università della Campania Luigi Vambitelli. In accordo, dice Monda, con le disposizioni della scuola di medicina e chirurgia, le lezioni del primo, del secondo e del terzo anno saranno erogate in modalità ammista, in presenza e in modalità telematica con rotazione di gruppi di studenti. Sulla maschera fatti contagiare solo dal teatro. Con questo spirito riparte, dopo la pausa determinata dalla pandemia, l'attività del Teatro Civico 14 al Parco dei Pini Caserta. Dal lunedì 5 ottobre riprendono i corsi di teatro nel pieno rispetto delle misure di anti-Covid. Prima dell'avvio, sabato 3 ottobre, dalle ore 10.30 all'Open Day, con lezioni di prova gratuita. Intanto aperte le attività nella nuova sede di Omni Arte Caserta, al centro delle arti e dello spettacolo diretto dal maestro Fabrizio Coppo, in corso Giannone 44, Palazzo Crespino. Tra gli altri corsi c'è quello di Tango Argentino, con prova gratuita il 24 settembre. affrettatevi. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci, un grande abbraccio e una raccomandazione.